Doppia allerta coronavirus al Sant'Ottone Frangipane del Tricolle. Da ieri sera il pronto soccorso del nosocomio è chiuso per permettere di sanificare i locali. Verso le 19 una sessantenne si è presentata accompagnata dal marito con febbre e problemi respiratori. La coppia ha saltato il pre-triage, la famosa tenda che si trova davanti al pronto soccorso e ha avuto accesso diretto al reparto d'emergenza. La donna, immediatamente visitata dall'infettivologo di turno, è stata trasferita al Moscati di Avellino dove al momento è ricoverata ma non in condizioni gravi. Il pronto soccorso è stato chiuso e immediatamente sanificato. All'alba però un cinquantenne è arrivato con il 118. Anche lui con febbre e problemi respiratori ha saltato il pre-triage e ha fatto di nuovo scattare l'allarme. Dopo una prima valutazione presso il pronto soccorso del Tricolle, anche il cinquantenne è stato trasferito con l'ambulanza attrezzata alla città ospedaliera del capoluogo. Non esisterebbe comunque una correlazione tra i due casi. I tamponi sui due pazienti sono stati effettuati e inviati al Cotugno di Napoli nelle prossime ore. Si dovrebbe conoscere l'esito del test. In attesa del risponso il personale in servizio ieri sera al pronto soccorso del Tricolle è stato messo in isolamento fiduciario. Da questa mattina intanto un'equip composta da due medici, un infermiere e un os è stata dislocata nella tenda pre-triage allestita dalla protezione civile.